Il programma, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, continua a far parlare di sé, non solo per le storie d'amore che si sviluppano all'interno del parterre di Canale 5. Infatti, nel corso del fine settimana, sono emerse alcune rivelazioni che potrebbero mettere in discussione la posizione di Mario Cusitore, uno dei cavalieri del dating show. Secondo quanto riportato, Cusitore sarebbe stato sorpreso in atteggiamenti intimi con una giovane donna, il che solleva interrogativi sul suo futuro all'interno del programma. Scopriamo insieme i dettagli di questa situazione che ha attirato l'attenzione dei fan. Le ultime novità su Mario Cusitore, e le segnalazioni inquietanti Attualmente, le vicende sentimentali di Mario Cusitore, sono sotto i riflettori a, Uomini e Donne. Il cavaliere ha recentemente chiuso la sua relazione con Morena, e sembra ora interessato a conoscere Margherita. Tuttavia, ciò che ha catturato l'attenzione dei telespettatori non riguarda solo le dinamiche interne al programma, ma anche eventi avvenuti al di fuori delle telecamere. Secondo quanto riportato da Dejanira Marzano sul suo profilo Instagram, Mario sarebbe stato avvistato durante una serata fuori dal programma in compagnia di una ragazza. Un utente ha condiviso che, sabato scorso, Mario ha trascorso l'intera serata con questa giovane donna, aggiungendo che i due si sono scambiati a bracci e momenti affettuosi. Un'altra testimonianza ha confermato che Mario ha trascorso la notte con una certa Martina, con la quale è stato fotografato mentre si divertiva in discoteca. Il futuro di Mario Cusitore a Uedì, un destino incerto, è importante sottolineare che, sebbene queste segnalazioni siano emerse, è prematuro trarre conclusioni definitive sulla loro veridicità. Tuttavia, ciò che è certo è che Mario Cusitore non è nuovo a situazioni di questo tipo. Nella precedente edizione di Uomini e Donne, infatti, il Cavaliere è stato più volte oggetto di critiche da parte dell'atronista Ida Platano, che lo ha accusato di avere presunti flert al di fuori del programma. Questo storico di polemiche mette Mario in una posizione piuttosto delicata. Se le recenti voci dovessero rivelarsi fondate, il suo futuro all'interno di Uomini e Donne, potrebbe essere seriamente compromesso, poiché sarebbe in violazione delle regole del programma. In attesa di ulteriori aggiornamenti e di una possibile smentita o conferma da parte di Mario, i fan e gli spettatori seguiranno con interesse l'evolversi di questa situazione, sperando di ottenere chiarezza riguardo a queste recenti controversie che hanno coinvolto il Cavaliere.